ciao a tutti ben ritrovati sul mio canale oggi vi parlo di un oggetto che è molto utile ai fotografi in special modo a quelli che devono stare con la macchina fotografica attaccata al collo per tanto tempo usando la classica cinghia figlia che viene dato in dotazione solitamente si usa la classica però dopo un po che sia al collo diventa un po fastidiosa quindi andiamo a vedere questo questa tracolla al suo interno adesso anche vedremo anche il montaggio suo interno abbiamo la colla prodotta dalla pro italia come si può vedere interno abbiamo anche un messaggio di ringraziamento comunque dicevo questa è la parte che va messa le spalle imbottitura abbastanza buona adesso andiamo a vedere la parte che interessa la macchina fotografica piastra in metallo che va messa agganciata alla macchina fotografica e è fatta in modo che si può agganciare un'altra piastra da montare per montarla in un cavalletto perché soltanto così non si può usare moschettone di sicurezza con il suo blocco quindi andremo a montare la piastra sulla mia macchina fotografica il montaggio molto semplice come vedete moschettone chiusura del moschettone di sicurezza come vedete la macchina fotografica è appesa al alla cinghia 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 che va collegata meglio va fissata al tanto la macchina fotografica con queste chiusura qua dotate di apertura perché se non si schiaccia il pulsante come vedete non si apre anche forzando quindi perfetto di schiacciare per aprire la regolazione viene fatta un attimo che la rismonto se no non riusciamo a far vedere la macchina fotografica la mettiamo lì regolazione viene fatta con queste semplici chiusure si può regolare ma si può regolare la lunghezza prodotto ben fatto veramente piastra veramente solida al suo interno c'è un ulteriore moschettone con l'accetto in caso si voglia collegare con ulteriore sicurezza quindi al posto dell'attuale non l'ho ancora provata sul campo perché non ho avuto modo però le premesse sono abbastanza buone prodotto che trovate su amazon trovate il link in descrizione se volete comprarlo basta cliccare sul link a voi non cambia nulla a noi ci arriverà una piccola commissione da amazon che ci continuerà ci permette di migliorare e continuare a fare questi filmati